Nell'isola ci sono circa 300-350 minori, sono dislocati in due centri di accoglienza, una cinquantina alla casa della Fratellanza e circa 150 alla base Loran. Oltre 100 sono fuori da questi due centri e sono esposti a ogni tipo di rischio e chiaramente vivono al freddo, dormono all'aperto. A Lampedusa in questo momento ci sono dunque un centinaio di invisibili, minorenni sbarcati nei giorni scorsi e sfuggiti ad ogni controllo. Vivono presumibilmente tra i precari rifugi sulla collina che sovraste il vecchio molo commerciale e i bivacchi sparsi per l'isola. Attraverso la rete di recinzione della casa della Fraternità, la struttura che la chiesa ha messo a disposizione ma non gestisce, un ragazzino arrivato 12 giorni fa da Zarzis ci dice che non ce la fa più ad aspettare, che per giorni ha dormito in un rifugio di fortuna in giardino, che molti di loro si sono ammalati e solo ieri sono stati trasferiti nella base Loran. Purtroppo le condizioni dei due centri di accoglienza non sono assolutamente accettabili. La base Loran delle condizioni un po' migliori, la casa della Fratellanza, assolutamente non è una condizione accettabile, manca un po' di tutto. Ieri abbiamo distribuito dei beni di prima necessità, ma chiaramente più il soggiorno nell'isola si prolunga e più le condizioni diventano peggiori. Per questo da giorni le associazioni umanitarie denunciano i ritardi nell'identificazione dei minori e nel loro trasferimento in strutture protette sulla terraferma. Il rischio è che i ragazzini sfuggiti ai controlli tentino di unirsi agli adulti per lasciare l'isola, diventando così definitivamente invisibili. Nei giorni scorsi il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, ha denunciato che di 400 minori sbarcati tra il 2004 e il 2008 a Lampedusa si sono perse le tracce. Dove sono finiti? Noi come sei vicini non possiamo confermare il numero, ma che comunque alcuni di questi minori possano finire coinvolti in reti criminali, in organizzazioni criminali e quindi rendersi del tutto invisibili esiste ed è concreto.